State pronti perché è arrivato. Allora, se siete come ero io in passato, avete problemi con le emozioni, con la loro gestione, qualcuno, uomini tipicamente vorrebbero diventare del robot, insomma, se quello è un settore che vi interessa, state pronti perché sicuramente lo conoscete, ma è un vero esperto, un vero appassionato di questo settore. E' arrivato il nuovo libro del nostro Genna. Eccolo qua, gente che oltre alla Mondadori, Gennaro Romagnoli, restare in piedi tra le onde. Allora, per quei quattro gatti in Italia che ancora non lo conoscessero, Gennaro è psicoterapeuta, psicologo, ha creato Psi nel primo posto italiano e forse non lo sapete, ma era nella... Io, agli inizi, quando era ancora studente, insieme ad altri, insieme al buon Manuel Mauri, che è il nostro amico comune, che vedete anche lui là dietro, insieme al primo libro di Gennaro, facci caso, ecco, gli ho fatto fare cose strane, me lo ricordo di tanto. Ti ricordi che ci facevi fare la routine energetica? Quindi gli ho rovinato la vita agli inizi e adesso lui invece l'ha migliorata a me, mi ha fatto cambiare idea su molte cose ed è una tra le poche persone, insieme a Manuel, che sento tutti i giorni, Pietro e altri, che posso chiamare veri, veri amici, che è una cosa rara, si conta sempre sulle dita di una mano, veri amici. Ecco, e quando uno inizia a divulgare, se è minimamente onesto, interessato, spera profondamente che le persone a cui insegna abbiano successo, poi ci sono delle persone che invece sono interessate solo a spillare soldi, a far apparire che le altre sono speciali, ma in realtà mettono, come si dice sul palco, gli sfigati. Sì, questo è una tecnica di marketing. Ecco, invece io sono molto contento perché Gennaro è andato oltre il successo, ha creato il primo podcast italiano di psicologia, Psinel, è tra i più seguiti da allora, era l'unico, poi oggi è tra i più seguiti di quel settore, poi secondo le classifiche, di solito al primo posto, comunque dipende dalle classifiche. Il suo primo libro che vedete là dietro, lo scusate, sono tutto invertito, facci caso, è diventato un bestseller, un Oscar Mondadori. Ecco, quindi fate salire, fate salire questo qui in classifica, fatelo salire subito perché quando lo incontro il 20 gennaio voglio sentire che è il primo nella sezione self-help ed è tosta, è dura. Quindi, trovate il link in descrizione, acquistatelo perché veramente è una persona che studia, ha studiato, ma ancora oggi studia tantissimo, è preparatissimo e ama davvero e profondamente la psicologia, le ricerche scientificamente basata. Al punto, secondo me, adesso qui vi do la mia opinione, non la sua, che la difende da certi suoi colleghi che sono, non meriterebbero le attenzioni che hanno, ecco sono un po' troppo pop, dai mettiamola così. Quindi, veramente merita, ecco, per favore metto una nota personale, scusate qua, non mandatemi libri da recensire, non lo faccio, anzi in passato è capitato quando ancora rispondevo al telefono che una persona ha insistito, me l'ha mandato e poi dopo ha detto in giro che io sono una persona sgradevole, maleducata, non lo so. Però, gli ho detto esplicitamente, guarda, le mie letture me le scelgo io. Allora, ecco, vi preciso che ho letto l'estratto, non ho ancora letto tutto il libro, ho letto l'estratto ed è un libro scritto bene, scritto davvero da Gennaro, cosa anche lì, potremmo parlare, ma non lo facciamo, non abbiamo po' lì, scritto davvero da lui, con i suoi esempi, i suoi aneddoti, scritto in un linguaggio chiaro, divulgativo, discorsivo e soprattutto spiega chiaramente, se volete sapere che cosa sono le emozioni, ma soprattutto come riconoscerle, come accoglierle, che la cosa più importante è l'errore numero uno da evitare, quello di spingerle via, come gestirle in caso di stanziarsi, quello che dicevamo all'inizio, come esprimerle, è il suo metodo Rade, che è all'interno del libro, ci sono gli esercizi, è pieno di esercizi, quello mi piace a me, gli esercizi, le tecniche, le tattiche, le strategie, ci sono anche quelle, ma è molto di più, perché in giro c'è una marea di gente che ha una comprensione sbagliata delle emozioni, una comprensione magari poetica, ma non scientifica, non strutturata, non basata su un'esperienza clinica, perché Gennaro è ancora un clinico, fa ancora psicoterapia, non accoglie nuove persone, ma i suoi vecchi clienti la fa ancora, quindi è veramente una persona competente del suo settore, e Dulcis in fondo, scusate se non l'ho preparato, ma l'ultima parola del libro, e lo ringrazio, e certamente non faccio questo video per questo, però l'ultima parola del libro, vicino a Manuel Mauri appunto, è, vediamo se si legge, scusate che ho davanti, non leggo io, scusate, è, zio H, quindi grazie per i ringraziamenti, adesso mi raccomando, non mettetevi a citarmi nel libro per avere lo shout out, come si dice tecnicamente il coso, perché non è una cosa che faccio, se non per i pochi, ripeto, amici che ho, e ho persone interessanti da farvi conoscere, e se non conoscete Gennaro Magnoli, sotto vi metto il link al suo canale YouTube, che sicuramente, ripeto, conoscerete, però l'ha cambiato, ne ha fatto uno nuovo, su Instagram è super, è super noto, e cosa vi devo dire, leggete, se siete interessati alle emozioni, è un bel tomo, è un bel tomo, però partite, leggete, se non siete interessati alle emozioni, acquistatelo lo stesso, dobbiamo andare in digitale, o cartaccio, e regalatelo a un'amica per il suo compleanno, e vi ringrazierà, e inizierà una visione del mondo emotivo diversa e particolare, sicuramente Gennaro ha citato le ricerche, i vari modelli che ci sono in giro, quelli neuroscientifici di tipo costruttivista, quelli, non sto dicendo le cazzate, dovete leggere lui che dice le cose giuste, va bene? Ecco, dai, dateci dentro, grazie ancora, restare in piedi tra le onde, manuale di gestione delle emozioni, Gennaro Romagnoli, dottor Gennaro Romagnoli, che ha fatto, tra le altre cose, un TED Talk, potrei essere polemico, qua non lo sarò, lui non lo può dire, perché non glielo avete fatto fare nel suo paese, nella sua città, che è Padova, però l'ha fatto, andatevelo a cercare online, così lo vedete, lo sentite parlare, ma soprattutto ascoltate il suo podcast, se volete, una comprensione della psicologia moderna, che è molto diversa da quella dei miei tempi, se volete, delle cose, ed è una cosa più basata su ricerche e quindi più efficace per la maggior parte delle persone, anche la psicoterapia. Ok? Basta parlare! Pam! Ciao!